Tra poco, Ginger, solo su Michel Audio Beh, adesso non esageriamo Meno male che ha i suoi amici In questo momento hai bisogno di noi Non ti mischiare tu Che gli danno affetto e luce Meglio scriverlo, fare molta attenzione a squinti La folia di Piccadri Potten continua tanti giorni alle 15 e 10 in un Oregon Spongebob Solo su Michel Audio